Gesù manifesta la desolazione profonda della sua anima agli apostoli più intimi e chiede da loro aiuto. L'anima mia è triste fino alla morte. Rimanete qui e vegliate con me, vegliate e pregate. Con queste parole intendeva dare e chiedere aiuto e conforto. Si mise in cinocchio e cominciò a pregare. Quanto più la croce, i peccati del mondo, l'incratitudine degli uomini gli si presentavano orribili davanti agli occhi, quanto più la natura umana inorridisce e trema, a tale vista tanto più ardente si fa la sua preghiera al Padre. Nelle ore della prova noi andiamo spesso a chiedere conforto, aiuta degli amici, agli uomini come noi, invece che presso Dio. Eppure abbontiamo di tanta bontà da parte del Padre. Siamo facilmente tentati di abbandonare la preghiera quando ci troviamo sotto il peso della croce, quando non ci porta subito conforto e sollievo. Impariamo dal Signore. Non ci è proibito di manifestare i nostri lamenti. Lamentiamoci pure con il Signore Dio, ma non ci dimentichiamo dopo le nostre lamentele di dire «Padre, Padre, sia fatta la tua volontà». Gesù nel Getisemene ci insegna a pregare una preghiera filiale, confidenziale. Alza la voce, Abba, Padre. Ecco la preghiera di Gesù. «Caro Padre», sta sotto la croce, sta soffrendo e dice al Padre che non interviene a compiere quello che lui chiede. «Caro Padre, abbi pietà di me». L'Evangelista riporta la parola di Gesù. «A te tutto è possibile. Si appella al cuore paterno. Allontana da me questo calice». E poi, con tanta confidenza di figlio, si abbandona alla volontà del Padre. «Non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu. Sia fatta la tua volontà». Bellissimo. «Questa sofferenza del Signore, che è un maestramento che ci dà alle nostre lamentele e alla nostra mancanza di fiducia nel Dio Padre. Quanto ci troviamo abbattuti e scoraggiati. Quanto facilmente la facciamo con malavoglia, la preghiera, o la trascuriamo. Quando alla nostra preghiera manca quella fiducia, quella confidenza filiale, facciamo violenza al cuore di Dio. Da Gesù, agonizzante nell'orto, imponiamo la preghiera piena di confidenza filiale. Dio rimane nostro Padre, anche se la sua mano pesa su di noi. Se Gesù ha pregato perché gli venisse allontanato il calice, possiamo pregare anche noi allo stesso modo. perché ci sforziamo di dire «Allontani il calice da noi, ma sia fatta, Dio Padre, la tua volontà». Nell'orto degli olivi il Padre non allontanò il calice. Gesù dovette bere fino all'ultima goccia. Eppure la sua preghiera fu esaudita. Il Padre gli mandò un angelo dal cielo a consolarlo, a confortarlo. Gesù, rianimato, si alza dalla preghiera e dice con fermezza «Andiamo». «Pieno di coraggio e coraggio eroico, entra nella notte oscura della passione, percorre la via che attraversa il calvario porta alla glorificazione e alla nostra redenzione». Può avvenire che nella nostra preghiera, pur fatta come quella di Gesù, con fiducia e sottomissione, non ottenga ciò che noi chiediamo. Può essere che Dio non ci tolga dalle spalle la croce che ci fa soffrire, ma è inutile. Una tale preghiera non è mai persa. Anche se non appare un angelo a consolarci, non restiamo senza il conforto che viene da Dio. In forza di tale conforto, continuiamo a percorrere con coraggio la nostra via crucis. La nostra croce diventa fonte di gloria per amore di Dio.